La Valentino ci ha convocato per discutere del premio aziendale. La ringraziamo e l'argomento ci interessa, ma prima dei soldi vogliamo discutere del futuro di questa azienda e dei suoi 160 lavoratori. Gabriele Innocenti, segretario provinciale della Filctem CGL, torna sulla vicenda della fabbrica distrutta dal fuoco. L'incendio avvenne tra l'1 e il 2 aprile scorso. Le fiamme fecero collassare la struttura del calzaturificio. Secondo i ridievi dei vigili del fuoco, l'incendio si sarebbe sviluppato da polveri infiammabili, scarti di lavorazioni che probabilmente non sarebbero stati gestiti in modo adeguato. La procura retina cercherà adesso di fare ulteriore luce sull'accaduto, anzitutto attribuendo eventuali responsabilità nelle possibili negligenze che hanno causato rogo e crollo. Una vicenda che ha portato a non poche conseguenze, i cui riflessi sono ricaduti inevitabilmente sui lavoratori. Sono passati oltre sette mesi dall'incendio e non ci sono novità. Una decina di addetti si sono licenziati per andare a lavorare altrove. 60 persone lavorano a Levane nello stabilimento preso in affitto da Prada. Altrettanti a Capraia in una sorta di condominio produttivo che li vede lavorare solo di pomeriggio ed altri 60 a Bucine. Altri 30 dipendenti prestano la loro attività in un magazzino della zona ai quali dobbiamo aggiungere i circa 50 dipendenti della Valentino S.P.A. che loro malgrado sono pienamente coinvolti nella vicenda. Secondo il segretario della Filchet MCGL questa non è una situazione accettabile. Il 18 ottobre è fissato un incontro con la direzione dopo il quale saranno possibili iniziative di mobilitazione.